Non ero cosciente di essere stato contagiato, mi è stato riscontrato mediante il test, se è logico. E quindi adesso lei aderisce a tutte queste campagne di screening? Beh, volentieri, perché è utile a me e perché può essere utile, spero, per qualcun altro. È con lo spirito di contribuire alla ricerca che i cittadini di Vaux si sono messi a disposizione per collaborare al quarto screening condotto dall'equip del professor Andrea Crisanti dell'Università di Padova. Si tratta di 160 residenti nella cittadina padovana che fu il primo focolaio del Covid in Veneto, che a maggio, dopo un prelievo venoso, avevano manifestato la presenza di anticorpi. L'obiettivo principale è quello di valutare la serologia, quindi la presenza di anticorpi specifici contro il SARS-CoV-2 a distanza di sei mesi dal precedente prelievo che era stato fatto all'inizio maggio e valutare quindi se esistono ancora questi anticorpi in circolo in queste persone e quanti ce ne sono, quindi a livello quantitativo. Ovviamente questo avrà un impatto importante per la nostra conoscenza del virus, della biologia del virus, della risposta immunitaria e avrà sicuramente anche un'implicazione per lo sviluppo dei vaccini. Un percorso di sperimentazione partito a febbraio nella cittadina, poi diventata simbolo dello studio al virus, dove scoperti i primi contagi fu disposto un primo screening con tampone richiesto dalla Regione. Dopo due settimane di lockdown, i 3.200 abitanti vennero richiamati per un nuovo ciclo di test. In primavera il terzo tampone, associato al prelievo di sangue. Quello che è stato fatto qui a Bo è stato importante per la comunità scientifica e si sono reso conto che anche questo ulteriore passaggio fornirà alla comunità scientifica i dati di cui ha bisogno.